al mondo del sentire dizionario del cerchio firenze 77 aggregato costituito se si vuole avere un'idea più aderente al mondo del sentire occorre porsi al di fuori di ogni successione e immaginare questo mondo come un immenso organismo costituito da numerosissimi e diversissimi atomi di sentire i quali conferiscono di volta in volta all'aggregato costituito un carattere estremamente unitario siccome ciascun aggregato costituito ha una natura unitaria ciascuno di essi può essere considerato un sentire unico di qualità diversa da quelli che lo costituiscono un sentire più ampio grazie a tutti grazie a tutti